Banche e sicurezza è l'occasione per fare il punto sull'andamento degli attacchi alle banche in Italia. Qual è il trend di rapine e assalti agli ATM? Sul fronte delle rapine i dati sono molto confortanti. L'inizio del 2014, parliamo dei primi tre mesi, nel primo trimestre abbiamo addirittura una diminuzione dei casi del 52%, che poi se andiamo a vedere alcune aree territoriali arriviamo anche a diminuzioni quasi del 90% come nella provincia di Milano. Per gli attacchi agli ATM il dato invece è meno confortante perché c'è una recrudescenza, arriviamo a quasi il 20% di aumento degli attacchi e proprio per questo motivo in occasione del convegno Banche e Sicurezza abbiamo voluto rinnovare il protocollo con la prefettura di Milano proprio per mettere a punto una strategia ancora più efficace sia per consolidare il dato positivo relativo alle rapine sia per incrementare il contrasto agli attacchi alle apparecchiature ATM. Le frodi sono un altro fenomeno da tenere sotto controllo. A Banche e Sicurezza è stato dato l'annuncio della prossima operatività di un nuovo sistema promosso dal MEF. Sì, il MEF oggi ha preannunciato che nel giro di una quarantina di giorni dovrebbe essere pubblicato in gazzetta ufficiale il regolamento di attuazione che dà il via al sistema pubblico di prevenzione delle frodi. Nasce come sistema per fronteggiare le frodi nel credo al consumo ma poi l'intesa con Assofin abbia voluto allargare il perimetro di questo sistema pubblico di prevenzione e in realtà sarà uno strumento per contrastare le frodi in senso ampio. Banche e Sicurezza 2014 è stata la prima edizione milanese. Come è andato questo esperimento e quali sono stati i temi caldi affrontati? Sì, la sede di Milano ha trovato il gradimento di tutti gli operatori della sicurezza non fosse altro che il fatto che sono stati proprio loro a indicare la sede di Milano come alternativa alla sede storica di Roma. Ma tra le novità non c'è certamente soltanto la sede c'è un maggior approfondimento attraverso un maggior numero di sessioni parallele dalla gestione del contante al sistema pubblico di prevenzione delle frodi all'impatto della circolare Banca d'Italia sul rischio informatico agli approfondimenti sulla security e sulla safety e tutte queste novità hanno trovato il gradimento e l'interesse dei numerosi partecipanti che sono accorsi al convegno anche in questa dodicesima edizione. Grazie a tutti.